Mi chiamo Michelle e in questo progetto ho provato un po' di paura perché pensavo che la lettera fosse del dirigente scolastico, perché qualche giorno prima avevo fatto un po' i monelli. Tanta curiosità perché non pensavo proprio che la lettera fosse stata scritta da un alieno. Infatti mi sono divertita tanto ascoltando le cose strane che faceva l'alieno, tipo un bagno gelato prima di cena. Però la cosa che mi ha colpito di più e che è emersa da questo censimento è che i bambini che hanno letto più libri sono quelli che all'inizio della scuola non conoscevano bene l'italiano e questa esperienza ci ha portato a leggere più libri. Ciao, io sono Oz e in questo progetto ho provato molta felicità perché non avevo mai parlato con un alieno e mi piaceva incominciare un nuovo progetto. Ho anche provato poca curiosità perché non sapevo chi aveva scritto la lettera, perché gli alieni non scrivono. Ho provato anche un po' di tristezza perché volevo vedere l'alieno e parlargli sperando che capisca la mia lingua e molto amore perché mi sono divertito moltissimo. Questo progetto mi è piaciuto molto. Sono Dardi. Un alieno ci ha mandato una lettera e inizialmente avevo un po' di paura, ma quando abbiamo finito di leggerla mi sono emozionato tanto. Sono contento del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Questo progetto mi è piaciuto moltissimo e sono molto felice che io e la mia classe siamo riusciti a vincere il concorso.